Allora giovani amici di Facebook, torniamo a parlare di fai da te qui su Incaut Unboxing Nella prima puntata vi ho mostrato la cassetta degli attrezzi, una delle tante chiaramente sul mercato Adesso però è ora di cominciare a riempirla questa cassetta, per cui farò diverse puntate ovviamente perché sono tantissimi gli attrezzi che ci possiamo infilare dentro e che ci serviranno poi nelle nostre sessioni di fai da te Cominciamo in questa seconda puntata con giraviti e chiavi Non mostrerò tutto quanto, solamente un po' di chicche particolari che vedrete spero vi piacciono e vi spiegherò anche un po' tutti quanti i vari standard e nomi strani legati a questo mondo particolare appunto che è il fai da te Sigla Allora benissimo cominciamo subito, qui c'è già la nostra cassetta che vi ho già fatto vedere nella scorsa puntata come vi dicevo prima della sigla, la mettiamo magari qui da una parte pronta per ospitare quello che sto per farvi vedere Però prima di farvi vedere i prodotti che ho scelto per voi faccio una piccola introduzione chiaramente legato al mondo del fai da te, sul mercato c'è veramente di ogni Se volete spendere poco e se gli attrezzi che state per comprare non vi servono molto frequentemente ma davvero una o due volte all'anno Detta schietta potete comprarvi semplicemente la classica cinesata che trovate su Amazon ma trovate fondamentalmente ovunque che è il classico set per riempire la cassetta quelle robe che con 20-30 euro ti compri 100 pezzi però fondamentalmente ti porti a casa della porcheria perché dico porcheria chiaramente è tutto in standard le misure sono giuste i cacciaviti si impugnano bene le chiavi funzionano il problema ovviamente sono i materiali io invece in questo diciamo speciale ho voluto presentarvi unicamente prodotti di alta qualità e che quindi vi dureranno se deciderete di comprare i prodotti che vi consiglio io in questo video molto di più rispetto alle cinesate che trovate in giro fondamentalmente vi dureranno per sempre perché questo? uno per il motivo ovvio che preferisco insomma consigliare cose di qualità due perché alla fine non è che costino molto di più chiaramente costano di più però se si pensa a quanto dureranno e a quanto non vi lasceranno diciamo in mezzo alla strada al secondo utilizzo perché il cacciavite si sforma perché la chiave si rompe perché la chiave si deforma eccetera insomma secondo me non è poco vedremo insieme i prezzi e soprattutto vedremo insieme i materiali materiali che spesso e volentieri sono di cromo vanadio un tipo di acciaio legato in cui viene aggiunto anche il cromo e il vanadio che aggiungono entrambi un'altissima resistenza, grandissima durezza e chiaramente rendono poi l'acciaio anche inossidabile cominciamo con le chiavi per le chiavi ci sono varie soluzioni, varie marche io ho scelto una marca molto famosa in Italia che è Usag che uno pensa sarà una marca americana no, in realtà la Usag è stata fondata nel 26 in Italia è una tenda assolutamente italianissima Usag è un acronimo in realtà sta per Utensileria Società Anonima Gemonio appunto è stata fondata a Gemonio e la Usag si differenzia proprio per l'altissima qualità delle proprie chiavi dico chiavi, non dico chiavi inglesi come si dice di solito qua in Italia perché in realtà non si dice chiave inglese si dice semplicemente chiave la chiave poi può essere metrica o anglosassone o inglese in base a come sono indicati diciamo le misure su appunto la chiave in questo caso poi sono chiavi metriche per cui chiamiamo le chiavi e basta ok sono riuscito a togliere diciamo tutto l'ambaradan dal suo packaging è veramente super figa sta roba qua perché è il motivo per cui ho scelto poi queste chiavi qui ho scelto Usag per la qualità quindi cromo vanadio e compagnia bella ma questo set in particolare mi piaceva tantissimo ripeto sono chiavi combinate cosa vuol dire combinate? vuol dire che combinano da una parte una chiave a forchetta che è questa qua e dalla parte opposta una chiave poligonale a testa poligonale viene chiamata poi hanno vari nomi eccetera la parte a forchetta è inclinata di 15 gradi che è diciamo lo standard avrete visto forse chiavi che sono a forchetta da tutte e due le parti in quel caso da una parte solitamente a 15 gradi dalla parte opposta è a 75 gradi così vi do un po' di informazioni generali che secondo me sono interessanti e sono curiosi la soluzione migliore secondo me poi dopo ognuno è libero di scegliere quello che vuole appunto sono appunto queste chiavi combinate con da una parte la forchetta e dall'altra parte la chiave poligonale la stessa chiave poligonale se vedete è inclinata rispetto all'asse anch'essa di 15 gradi che diciamo è l'inclinazione migliore per svitare bulloni fighissimo appunto ripeto il porta chiavi vedete che si apre in questa maniera qua perché è fatto così perché dalla parte opposta c'è questa clip che consiente di attaccarlo alla cintura quindi ve lo potete portare in giro magari o quando non lo utilizzate invece tutte le chiavi finiscono belle e comode dentro alla nostra cassetta si apre ripeto da 8 a 19 sono chiavi metriche combinate USAG molto fighe chiaramente si fanno pagare il set non costa poco costa quanto fondamentalmente quei set cinesi con 500 chiavi dentro di cui parlavo prima sta tra i 40 e 50 euro per 9 chiavi sembrano tanti in realtà queste chiavi qua quando le compri singolarmente le paghi da 7, 8, 10 euro addirittura in ferramenta per cui in realtà è una buona offerta 40 euro non vi fate spaventare compratevi delle chiavi buone lo ripeto e lo ripeterò fino alla fine del video ok mettiamo queste dentro la cassetta e passiamo oltre le altre chiavi di cui voglio parlarvi oggi sono le famosissime chiavi a brugola si chiamano brugola in realtà solamente in Italia si chiamano chiavi allen perché il loro inventore appunto si chiamava allen queste però sono talmente particolari che non ho resistito ce ne sono anche qui di molto più economiche queste sono cromo vanadio alla grandissima hanno questo porta chiavi bellissimo fighissimo e soprattutto sono color coded quindi ogni chiave ha un colore diverso è una cosa più estetica che altro lo ammetto sono un fighetto però mi piacevano talmente tanto che alla fine ho scelto queste queste poi hanno la particolarità di essere prodotte da Inbus chi è Inbus? Inbus è praticamente l'azienda che le ha brevettate, inventate in Germania tanto è vero che in Germania questo tipo di chiavi non si chiamano a brugola ma si chiamano proprio Inbus chiavi Inbus in Spagna e Francia invece per esempio si chiamano chiavi allen da noi si chiamano chiavi brugola per il mitico Egidio brugola che è la persona fondamentalmente che le ha brevettate in Italia nel lontano 26 e quindi è rimasto diciamo chiavi a brugola in realtà sono chiavi esagonali fondamentalmente che servono per andare a svitare appunto le viti a testa cava esagonale queste in particolare poi sono anch'esse combinate altra cosa che torna come le chiavi di prima cioè da una parte mi tiro fuori una così ve la faccio vedere da una parte hanno la classica appunto forma esagonale della classica brugola invece dalla parte opposta hanno la testa a sfera questa è molto comoda perché invece che inserire sempre diciamo verticalmente la chiave si può anche ruotare mentre la si fa girare e si rende il tutto veramente super super comodo sono veramente molto belle queste qui di Inbus sono ad altissima qualità sono davvero super belle secondo me si fanno pagare anche salatissimo perché costano attorno ai 40 euro se volete risparmiare e non vi frega nulla come immagino del color code dell'estetica delle chiavi ci sono chiavi USAG cioè c'è un set USAG che vi linko anch'esso in descrizione che costa 20 euro sono sempre combinate ed è altrettanto buona io mi sono lasciato diciamo fregare dall'estetica strepitosa di queste Inbus andiamo a trattare di un'altra marca molto famosa in Italia marca italiana ancora italianissima che è Beta e che appunto garantisce altissime qualità come prima appunto USAG e Inbus quindi stesso concetto ho cambiato volutamente marca e ho scelto appunto un'altra marca italiana eccoli qua i nostri 8 cacciaviti come dicevo 5 sono a lama piatta e 3 a croce Philips che cacchio vuol dire Philips perché 2 L la Philips eccetera non c'entra niente la Philips Philips è praticamente un inventore in realtà poi ci sarebbe una storia un po' più complessa dietro comunque è un inventore americano che ha depositato appunto il brevetto per questa particolare chiave a croce è fondamentalmente uguale alla croce standard che si chiama Frierson per chi diciamo è interessato a questa curiosità ma ha una piccola variante all'interno della croce non riesco a mostrarvela qui sul cacciavite vi faccio vedere qui un'immagine che vi spiega in un secondo qui ok avete capito insomma i cacciavite croce vengono chiamati Philips sappiatelo poi ci sono i Torx e ci sono tante altre forme di cacciavite i due principali però sono quelli a taglio e quelli Philips o a croce appunto perché ho scelto questi beta ancora per la qualità quindi cromo vanadio testa in cromo vanadio testa magnetica altrettutto per cui comodissima per estrarre le viti e per fare in modo che non vadano da tutte le parti impugnatura anatomica in materiale plastico di ottima qualità cacciaviti che in teoria durano per sempre insomma e invece che comprarvi la Cinesata da 5 euro 10 cacciaviti in questo caso non costano neanche troppissimo in realtà perché un set da 8 cacciaviti di buona qualità di ottima qualità beta ve lo portate a casa con 30 euro secondo me è un investimento che si può fare benissimo probabilmente 8 sono anche troppi però i cacciaviti credo che non bastino mai quindi consigliati cacciaviti beta set da 8 giraviti a lama piatta e a croce phillips 5 lama piatta 3 croce phillips non volevo comprare altri cacciaviti ma mi sono fatto fregare da questo set della Stanley è un set di cacciaviti che sta attorno ai 20 euro per cui alla fine li ho comprati soprattutto perché costavano poco e sono cacciaviti isolati da elettricista o comunque per lavorare su materiale elettrico c'è anche un circuit tester che è quel cacciavite particolare che ha la lucina che si accende quando sente la corrente ve li tiro fuori e ve li mostro al volo eccoli qua sono 6 cacciaviti in tutto di cui 4 ha lama piatta e 2 ha diciamo croce sono molto belli diciamo da un punto di vista estetico sono isolati fino alla punta come vedete sono probabilmente troppi per l'uso comune però sono talmente poco che alla fine mi sono comprato come vi dicevo il set interessante è il tester che ha appunto al suo interno una resistenza e una lucina che appunto vi dice quando toccate dove passa corrente molto comodo anche questi io direi di consigliarli stanno attorno ai 20 euro se vi servivano dei cacciaviti isolati può essere un'incauta acquisto in più non sono certo fondamentali probabilmente l'unica cosa che vi serve davvero è il tester che lo potete anche comprare a parte per 4 o 5 euro concludo il video con due piccole chicche uno è questo cacciavite della WIHA una marca che probabilmente non avete mai sentito ma che fa prodotti direi tra il buono e l'ottimo una marca tedesca se non ricordo male secondo me è molto figo da portarsi per esempio in viaggio o comunque lasciare dentro alla cassetta perché occupa pochissimo spazio ha una diciamo impugnatura magnetica su cui vanno delle punte che sono nascoste dentro l'impugnatura stessa eccole qua sono in tutto 6 punte 3 a taglio e 3 a punta phillips a croce quindi potete fondamentalmente l'avete già capito tirare fuori una punta infilarla magneticamente dentro il cacciavite e poi utilizzarlo in questa maniera qua è chiaramente comodo solamente per usi molto particolari o comunque diciamo per emergenze però costa talmente poco che anche questo è un classico incautacquisto da aggiungere al carrello mentre state comprando altro ultimissimo piccolo accessorio veramente utile insieme ai cacciaviti che abbiamo comprato è un magnetizzatore e demagnetizzatore a cosa serve? serve semplicemente lo tiro fuori dalla scatola intanto a cosa serve vi dicevo serve semplicemente a magnetizzare o a demagnetizzare le punte dei cacciaviti con il tempo i punti dei cacciaviti magnetici si smagnetizzano e con questo potrete rimagnetizzarli allora giovani amici facebook stiamo finalmente riempendo la stragrande la nostra cassetta come vedete sopra è già bella piena di cacciaviti e altre minchiate continueremo nelle prossime puntate di Incautify da te spero a breve a mostrarvi altri attrezzi per riempire completamente la nostra cassetta ci sono tantissime cose che voglio mostrarvi dalle pinze agli accessori vari ci sono tantissime cose ancora che mi devo andare a comprare su Amazon e poi mostrarvi se vi piace questa serie di Incaut Unboxing dedicata al fai da te fate like fate share lasciatemi i vostri commenti qui sotto e ditemi che cosa volete vedere nelle prossime puntate ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi